Il calendario quest'anno, come negli anni scorsi, è stato realizzato anche con la collaborazione dell'Unicef, abbiamo qua infatti la signora Reggiani che è la nuova Presidente della sede mantovana dell'Unicef ed è stato realizzato proprio in funzione di devolvere il ritavato della vendita dei calendari, una buona parte, all'Unicef per il progetto Yemen. Dal 2001 collaboriamo con l'Unicef nella realizzazione del calendario e nella gestione dei ricavati della vendita, ogni anno viene sostenuto un progetto, quest'anno appunto è il progetto ieri. Il calendario di quest'anno è stato realizzato con la collaborazione di 12 fumettisti di rilievo nazionale, i più conosciuti in ambito nazionale, che hanno ciascuno per un mese, hanno realizzato un disegno che fa riferimento alle attività quotidiane della Polizia di Stato, degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, in particolar modo facendo riferimento ai nuovi distintivi di qualifica che dal prossimo anno verranno utilizzati dal personale della Polizia di Stato. Come sapete? Lo Yemen è una catastrofe, una catastrofe umanitaria, è uno dei peggiori teatri di guerra che ci sono in questo momento al mondo. Il responsabile Unicef per l'area del Medio Oriente l'ha definita l'inferno in terra per i bambini e le bambine. Ringraziamo tantissimo la Polizia di Stato per il sostegno. Grazie, grazie.